Sono persone che hanno delle malattie, quindi un danno d'organo, che possono in qualche modo essere coinvolte nella malattia per un rischio proprio di letalità, quindi evitare la malattia grave e quindi con le conseguenze anche letali della malattia. L'obiettivo è dunque quello di proteggere i pazienti estremamente vulnerabili e così in Toscana è già partita la vaccinazione delle persone di qualsiasi età, con patologie che possono metterle in gravissimo pericolo nel caso in cui contraggano il coronavirus. Quindi c'è un obiettivo più importante anche rispetto alla malattia grave in se stessa che può essere appannaggio di altre categorie che verranno dopo. Ad Arezzo si è partiti con una delle categorie più a rischio. Di chi fa ossigenoterapia, quindi non soltanto le fibrosi polmonari ma anche le broncopneopatie cronico-struttive, cioè tutti i soggetti che in qualche modo fanno ossigeno. Sarà poi il turno degli altri pazienti particolarmente fragili. Abbiamo prima di tutto malattie neurologiche, per esempio penso alla sclerosi multipla, alla sclerosi laterale amiotrofica, alla miastenia grave oppure per esempio a delle cerebroopatie infantili. Poi ci sono i soggetti diabetici con un diabete grave però, per esempio con complicanze vascolari del diabete, oppure soggetti che hanno uno scompenso cardiaco in fase molto avanzata. Poi abbiamo malattie autoimmuni, poi abbiamo le sindrome di Down per esempio, oppure alcune malattie oncologiche di tipo della filiera emato-oncologica. Poi c'è una malattia molto importante che può dare delle complicanze a livello respiratorio e della fibrosi cistica, tutti idealizzati. In questo caso a chiamare i pazienti saranno direttamente gli ospedali. Una volta conclusa la campagna sugli over 80, saranno poi i medici di famiglia ad occuparsi di completare l'immunizzazione. Tutti i nostri medici che lavorano nelle unità operative ospedaliere sono già stati allertati. Poi faremo delle circolari anche per le associazioni. Si metteranno in contatto con questi pazienti e li allerteranno dicendo loro che potrebbero ricevere una chiamata da parte del call center della ASL che poi fa la programmazione e le prenotazioni e così la persona può decidere la data, può decidere anche dove è più vicino la sede e quindi si formeranno poi le agende in base a queste chiamate del call center. Il vaccino utilizzato sarà principalmente moderna. Con una prima dose e poi con una dose che verrà ripetuta dopo quattro settimane.